Ciao a tutti amici schiacchisti, sono qui con grande felicità a mostrarvi un altro fantastico problema che ho trovato durante una delle mie raffiche di problemi live siamo arrivati a risolvere problemi di oltre 3400 elo, questo in particolare è un 3445 ovviamente problemi così si risolvono solamente tutti insieme e a volte ne vediamo davvero di belli e questo ne è un esempio, un attacco invisibile da nulla, parte tutto da questo scacco in D8 della torre qui ci sono tre mosse che può fare il bianco, Re2, Alfiere D2 e ReC1 due mosse vanno bene, Re2 e la partita continua in parità anche se viene lasciato in presa un pedone però il bianco aveva un pedone in più e quindi adesso siamo pari oppure un'altra possibilità è giocare questa mossa di Alfiere qui il nero sviluppa l'Alfiere in C5 sulla diagonale giocare questo tipo di mossa G5 non porta niente Alfiere G5 perché si gioca F4 chiudendo l'Alfiere e qui continua in parità, però il bianco gioca ReC1 e qui inizia il vero problema perché questa è una mossa completamente sbagliata che porta alla vittoria del nero di fatto bisogna trovare la sequenza giusta che non è affatto facile perché qui parte un attacco invisibile del nero la prima mossa penso che bene o male analizzandola possiamo vedere tutti si gioca Alfiere A3 e questa mossa è letale perché l'Alfiere in coordinazione con la torre porta il Re ad andare in B1 e crea un blocco un blocco generale perché questa torre controlla la colonna aperta bloccando lo sviluppo della torre bianca, primo aspetto inoltre quest'Alfiere chiude la diagonale scura limitando i movimenti del Re se questo Re rimane bloccato qui anche la torre rimane bloccata qui quindi il Re bianco limita la torre, vedete? un blocco generale, inoltre questo pedone non ha respiro, non può essere spinto perché uno potrebbe pensare spingo il pedone bianco, libero la torre e faccio qualcosa no, questa mossa qui è veramente di una potenza inaudita tutto funziona adesso torre è bloccata, Re è bloccato, torre è bloccata, pedone è bloccato però diciamo che qui trovare poi una combinazione una continuazione diciamo della combinazione non è affatto facile quando dicevo un attacco invisibile perché qua ci ne abbiamo messo di tempo a capire quale fosse la mossa giusta e la mossa giusta è torre H e 8 appellarsi al buon vecchio principio dello sviluppo il nero si sviluppa e il bianco non può svilupparsi si attacca questo pedone un pedone centrale ma non solo, si minacciano delle rook lift dei sollevamenti di torre molto molto pericolosi torre per porterebbe, torre per E5 porterebbe poi ad andare a minacciare lo scacco in B5 con minaccia di matto torre E6 con minaccia di matto in B6 c'è l'alfiere camposcuro per ora quindi non possiamo fare questa manovra qui il bianco può rispondere in vari modi dobbiamo, può decidere di difendere il pedone o decidere di contrattaccare questo alfiere camposcuro con il proprio motivo per cui solo questa mossa va bene perché se noi ne giochiamo un'altra qualunque altra mossa l'alfiere arriva qui e l'alfiere del bianco contrattacca quello del nero e il nero non ha più gioco d'accordo? quindi questa ci vuole allora vediamo le varie possibilità alfiere C1 è una mossa sicuramente interessante c'è un problema di base qui si gioca vediamo se riuscite a vederla qualche secondo qua è persa si può giocare torre per E5 si attacca la torre bianca e si minaccia questo scacco qua quindi se qui la torre bianca si sposta non lo so per esempio qua arriva lo scacco di torre l'alfiere deve parare e qui è finita torre per B2 il re va qui la torre si sposta per esempio dove volete spostarla è uguale è scacco e il re si trova in traquanto non a casa quindi quindi di fatto questa qui è una minaccia di un pezzo e una minaccia di matto quindi qui il bianco se non vuole perdere la torre non vuole prendere il matto o gioca a questa ma perde una torre con scacco il re va qua e qui c'è un guai perché c'è di tutto insomma il bianco è già il bianco è già in svantaggio di materiale oppure altra possibilità si cattura questa torre il sacrificio di torre e la torre arriva in D1 questo è il problema che lasciando questa la prima traversa l'altra torre si infila scusate l'altra torre si infila e adesso parare torre torre per C1 matto è impossibile questo pedone non può essere spinto questo questo non può essere spinto questo non può essere spinto l'alfiere qui è inchiodato e qui non c'è c'è niente si può dare torre 8 ma il re si sposta e qui non non ci sono mosse ok il bianco ha solo degli scacchi a re inutili questo viene catturato può prolungare così ma non serve a niente quindi di fatto la minaccia qui di matto porta la vittoria quindi torre per E5 risulta vincente abbiamo dimostrato che la mossa di alfiere non è risolutiva per il bianco a questo punto si può provare a fare altro per esempio provare a difendere questo pedone perché no è attaccato giusto qui piccola parentesi il computer suggerisce alfiere F1 ok alfiere F1 è la mossa del computer suggerita dopo torre 8 e l'idea è usare questo alfiere su questa diagonale vedete controllare queste case il problema è che qui si lascia in presa questo pedone non si minaccia torre B5 perché c'è l'alfiere campo chiaro vedete come si difende un computer molto bene non c'è neanche ripeto torre E6 con la minaccia qui perché c'è l'alfiere campo scuro ma di fatto qui in nero ha guadagnato un pedone centrale ha uno sviluppo che è clamoroso e inoltre rimane la situazione di blocco del re del bianco confinato ad angolo con anche la sua torre bloccata quindi non ci sono prospettive per il bianco qui che può giocare continuo con le mosse da computer alfiere qui succedisce addirittura alfiere C4 sto leggendo bene questa ok si alfiere C4 e qui ci sono delle mosse molto interessanti si può giocare torre E7 e il bianco è completamente in svantaggio non può fare assolutamente nulla c'è c'è una differenza di sviluppo abissale abissale ok e questa con una mossa da computer proviamo a difendere a sto punto questo pedone è attaccato altre varianti difendiamo il pedone giochiamo non so F4 vedete magari F4 c'è il problema che su questa mossa o vabbè prendiamo questa non so analizziamole una per volta anzi questa la voglio analizzare dopo è la più interessante e alfiere qua tipo tipo qui c'è c5 sicuramente mossa fortissima si attacca l'alfiere che deve tornare indietro perché è intrappolato l'alfiere dopo che torna indietro si può riprendere questo pedone oppure si può giocare anche torre E6 con l'idea sempre di giocare questa che non si può giocare ma si gioca c5 e poi la minaccia di matto qui non c'è niente da fare il bianco qui suggerisce di giocare alfiere c5 ma perché una mossa del genere così pazza perché c5 sta arrivando quindi si vince così con questo matto e niente quindi non è una possibilità allora a questo punto giochiamo davvero non so questa questa impresa semplicemente scusatemi ok giochiamo f4 e qui arriva l'aspetto molto interessante cioè torre E6 d'accordo minaccia la sappiamo c5 minaccia così e ora il bianco gioca mossa da computer alfiere f3 non c'è altro se si prova questa ricordiamoci che c'è il matto perché si abbandona il controllo di questa diagonale quindi non si può fare non so altre mosse che vengono in mente utili sensate non ce ne sono qui alfiere f3 comunque il bianco gioca con l'idea di contrattaccare qua e adesso qui arriva il bello perché bisogna trovare la mossa vincente qui la mossa più forte di tutte è io ho pensato me lo ricordo bene il live torre V6 scacco perché è una mossa del genere perché adesso l'alfiere cattura ma l'alfiere non controlla più questa casa e adesso arrivo qua e minaccio questo questo matto qui come si difende questo pedone non si può difendere se l'alfiere va qui vedete cosa c'è alfiere per 4 torre riminaccio questo matto torre per torre matto io ho calcolato ho calcolato passavo di aver vinto bisogna difendere il pedone quindi questa non va bene questa direte voi va bene no perché catturiamo l'alfiere A per B6 e qui abbiamo un pezzo in più ragazzi perché di fatto siamo con una coppia degli alfieri lasciate stare che il bianco ha più materiale ma la torre qua è bloccata il re è bloccato cioè non si possono muovere quindi abbiamo un pezzo in più è come se avessimo un alfiere in più cioè è come giocare torre contro torre alfiere contro alfiere e l'alfiere campo scuro in più perché questa torre e questo pedone non possono essere attivati punto cioè questo pedone non può essere mosso per liberare la torre quindi questo re non si può muovere quindi qui la torre può andare a fare danno di qua insomma c'è posizione completamente vinta quindi questa non può essere una risorsa di gioco per il nero ok per il bianco e l'altra mossa per difendere C2 è questa giocare semplicemente questa e qui noi catturiamo e se la torre non si sposta guadagno pure la qualità attacco questi pedoni il bianco può giocare H3 ma non serve assolutamente a nulla posso fare veramente quello che voglio qui posso anche semplicemente catturare vi dimostro che qui il vantaggio è ovviamente elevatissimo torre per si sposta torre per e abbiamo chiaramente un attacco sull'alfiere su questi pedoni non c'è nulla da fare bene non tra l'altro qui ragazzi sono il computer suggerisce Rai B8 perché l'avversario è in una paralisi totale guardiamo allora però perché questa mossa perché uno dice ma il bianco il bianco perde con questa mossa torre B6 no la posizione è pari sembra incredibile è una mossa bellissima questa guardate dopo che ha mosso il bianco è una mossa scusate non questa dopo che il bianco ha fatto alfiere F3 questa qui è una mossa stupenda stupenda torre B6 l'alfiere cattura e torre D2 ma qui che ci crediate o no c'è un altro modo per difendere il pedone che è allucinante ed è ancora meglio di alfiere D1 che era la mossa migliore che avevamo visto ma che comunque portava lo svantaggio del bianco e la mossa è guardatela alfiere G4 è incredibile sacrificio di alfiere l'alfiere non può catturare questo pedone perché è inchiodato qua e qui se il nero cattura questo alfiere il bianco cattura questo ok se il bianco invece se il nero cattura questo alfiere qua il nero sposta il proprio alfiere in E3 abbiamo attaccato la torre d'accordo la torre può mangiare questo pedone ma intanto il nero si è salvato dall'attacco da quest'attacco fulminante e qui si gioca alfiere C1 abbiamo il tempo di giocare alfiere C1 respingendo l'alfiere campo scuro perché non c'è più la minaccia di matto e quindi qui il nero si salva il bianco si salva quindi questa mossa è una risorsa difensiva infatti per questo voglio intitolare attacchi e difese invisibili questo video perché l'attacco del nero all'inizio non si vede si vede solo alfiere scacco ma il resto attivare la torre fare tutta sta manovra non si vede ma non è finita e poi ma sta mossa alfiere G4 non si vede che difende tiene il vita il bianco è una mossa bellissima è una mossa bellissima si devia l'alfiere qua e poi si sposta il proprio è stupendo ma allora il nero come deve fare per vincere? beh sta tutto nell'ordine delle mosse sta tutto nell'ordine delle mosse perché qui non si gioca torre B6 con l'idea di poter giocare torre D2 ma si gioca torre D2 con l'idea di giocare torre B6 e sembra la stessa cosa so cosa state pensando l'alfiere non può essere preso per via del matto d'accordo ma qui c'è un altro aspetto il fatto che qui l'attacco è su C2 voi direte beh il bianco si può difendere però nello stesso modo di prima e no non funziona così perché se il bianco difende con questo alfiere l'alfiere cattura ok minacciando matto l'alfiere campo scuro bianco non può mai catturare per torre matto allora altra risorsa difensiva questa che sembra risolvere bellissima questa ma qui c'è il capolavoro adesso che l'alfiere si è spostato qua si può giocare non è più su questa diagonale torre D5 adesso la minaccia è su B5 c'è una geometria fantastica e qui cosa deve fare il bianco cosa può fare voi dite beh fa C4 controlla questa casa no perché adesso la magia scusate sbagliato C5 perché l'altra torre si vuole portare in B6 a dare matto ma c'è l'alfiere campo scuro quindi noi sacrifichiamo questa torre ma diamo matto in B6 e torre B6 è di fatto completamente imparabile quindi si deve sacrificare questo ma insomma torre Pere poi la minaccia questa mossa di interposizione si vuole giocare torre B6 si gioca questa semplicemente fantastica tutta sta variante pedone cattura e si prende matto roba dell'altro mondo e guardiamo un'altra risorsa difensiva qui il bianco gioca alfiere 2 e blocca con i suoi alfieri l'ingresso delle due torri c'è un problema adesso altro problema torre di 2 di nuovo se l'alfiere prende la torre va a dare matto e adesso qui il bianco cosa fa voi dite ripete torre di 5 chiaro torre di 5 ripete sembra tutto a posto torre di 2 no no ragazzi non è così perché qua il dopo questa ripetizione il bianco può semplicemente giocare tanto il nero è completamente immobilizzato la mossa c5 e adesso di nuovo qui salta fuori il problema torre di 6 è una minaccia chiara di matto e come si fa si deve dare all'alfiere però e poi questa è la cosa che deve fare il bianco ma vedete la posizione è completamente persa cosa succede qui altre risorse difensive dopo questa meravigliosa già il passaggio con torre c5 le doppie minacce qua torre d5 scusate è bellissimo ma qui dopo alfiere f3 torre qui voi dite non difende di alfiere non so difenderà questo punto con la torre tipo torre qua torre qua è molto semplice vedere che c'è un matto immediato alfiere per c1 c per c2 scusate perché bisogna difendere questo pedone quindi non fa questa il problema è sempre il solito qui c5 si minaccia matto e qui il problema è che non non c'è questa questa e perché qua la minaccia è uguale il ne rompe un pezzo in più quindi non si può difendere il pedone ragazzi non si può difendere il pedone e qui il bello il bello è che la stessa mossa adesso ci arriviamo la stessa sequenza qua portava su è veramente bellissimo torre d2 vi ricordate la soluzione torre b6 questa questa e questa alfiere g4 ma adesso io vi dico che è bellissimo perché nell'altra variante sembravano uguali ma guardate bene alfiere qua non non è possibile perché questa mossa si può giocare tutto questo visto da un computer alla fine c'è torre d2 perché l'alfiere vedete se voi giocate prima torre b6 l'alfiere rimane nella stessa diagonale del re senza la torre e quindi alfiere g4 funziona se voi giocate se voi la giocate invece in modo diverso cioè giocate la sequenza opposta questa non funziona è bellissimo non l'ordine delle mosse vedete fare questa manovra di torri io sono rimasto senza parole torre b6 con l'idea di giocare torre d2 no torre d2 con l'idea di giocare torre b6 perché questa torre rimane qui e alfiere g4 è completamente neutralizzata mentre nell'altra variante l'alfiere rimane inchiodata e qui il problema finisce io voglio ringraziarvi mi piace troppo condividere con voi tutto il mio entusiasmo per queste posizioni vi ringrazio per tutto il supporto che mi date durante le live iscrivendovi con i vostri commenti veramente super vi invito a iscrivermi al mio canale youtube e twitch e anche seguirmi su instagram e tiktok io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo presto con tanti video va bene grazie davvero ciao